Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, sulle labbra prima di iniziare ho il matitone, questo qua della Essence, il Velvet Stick nella colorazione 05 è un matitone che a me piace veramente molto e che vi consiglio altra piccola parentesi, nel mio canale è aperto un giveaway, sarà aperto fino a primi di settembre, vi lascio il link tra le schede se volete partecipare ma adesso passiamo al video, questo è un video dove vi mostro, vi parlo dell'anteprima della collezione della trend edition settembre-ottobre 2018 della Essence è ovviamente un'edizione limitata che è dedicata all'autunno e infatti si ispira ai colori autunnali delle foglie che cadono e profumi delle romantiche passeggiate nei boschi e appunto come vi dicevo a regola dovrebbe uscire verso settembre-ottobre 2018 ma vediamo da che cosa è composta questa collezione il primo pezzo è un mascara occhi volumizzante, è l'I Love Extreme Crazy è praticamente il loro best seller dell'allestimento standard però in questa edizione limitata è di colore marrone ed appunto promette un volume estremo e una massima coprenza il prezzo di questo mascara è di 3,59€ e la colorazione appunto è una sola un altro pezzo molto interessante che spero di trovare perché mi ispira parecchio è una palette di blush ed illuminanti è composta da 5 blush e 5 illuminanti per creare appunto un incarnato fresco e luminoso i colori sono caldi e altamente pigmentati e si mixano tra loro alla perfezione il prezzo di questa palette è di 11,90€ e la colorazione è solamente una la 01 e non ce ne sono altre e questa mi ispira veramente tantissimo un'altra palette presente in questa collezione è la palette di ombretti dal prezzo di 8,99€ è una palette composta da 10 ombretti che si mixano alla perfezione tra loro e sono ideali per creare dei look autunnali e sono ombretti shimmer ed ombretti matte anche questa sarà presente in una sola colorazione oltre alle palette un altro pezzo secondo me molto molto interessante che spero di trovare è il pennello ed è un pennello per illuminanti e blush questo dovrebbe costare 3,79€ e anche di questo c'è anche per il pennello ne uscirà un solo tipo ed è ideale per un'applicazione precisa e facile appunto per ombretti e illuminanti non mancheranno poi i tatuaggi per il corpo e per le mani a 2,49€ sono dei tatuaggi dorati con immagini floreali ed infine l'ultimo pezzo ma non per importanza è l'eau des toilettes anche questo presente in una sola profumazione il prezzo è 6,29€ circa e praticamente ha una delicata fragranza floreale cipriata crea una meravigliosa sensazione olfattiva ideale nei mesi più freddi e anche questo profumo mi intriga parecchio quindi spero di riuscire a trovarlo quindi ragazzi queste sono le novità che usciranno ad autunno del 2018 per quanto riguarda la essence io vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao ciao